Gli utenti del trasporto pubblico lo chiamano aumento eccessivo. La giunta regionale della Campania invece definisce il rincaro del 20% delle tariffe del sistema unico Campania un adeguamento necessario. Un ritocco al rialzo per sopperire all'assenza di quelle risorse finanziarie che servono a garantire ai cittadini la possibilità di continuare a usufruire di un solo tipo di biglietto per potersi servire ogni giorno di tutti i mezzi pubblici che rientrano nel sistema unico integrato. A fronte della qualità del servizio in molti ritengono però ingiustificati gli aumenti e le polemiche, ora anche politiche, non si arrestano. In merito ha lanciato una proposta il Partito Democratico, proposta incentrata sulla riduzione del prezzo dei titoli di viaggio attraverso l'abolizione del fondo che garantisce telepass e via card gratuiti ai consiglieri regionali. Insomma una proposta che punta a colpire i privilegi politici salvando le tasche dei già vessati cittadini campani. L'entrata in vigore degli aumenti, scattata il 1 aprile, ha spinto sul piede di guerra le associazioni a tutela dei consumatori intenzionate a promuovere una serie di manifestazioni di protesta. Per il 9 aprile è già stata programmata una mobilitazione regionale in piazza Garibaldi.